E' il momento di riscoprire il magico mondo di Winnie Pooh, con Pooh e tutti i suoi amici. Ecco, ti presento Pepe, Tigo e Tappo. Io sono Winnie Pooh. Impariamo a condividere. Forse dovremmo cercare di fare qualcosa. E a voler bene. Avanti, sono pronto, tirami su il morale. Nel magico mondo del Bosco dei Cento Acri. Un'avventura divertente ed interattiva che i vostri bambini adoreranno. Mi sia geniale! Con magnifiche storie e una nuova canzone che delizierà tutta la famiglia. Così fantastico se passi il tempo con noi. Entra nel magico mondo di Winnie Pooh, tutti per uno, uno per tutti. E le piccole cose contano tanto, in videocassetta. Questo è il più bel regalo che un bambino possa ricevere. Grazie a tutti.